Ciao lettrici e lettori, benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale per la penultima volta Mary Lulamas. Avevo voglia di condividere con voi una riflessione che è scaturita da una delle mie ultime letture e parlarne insieme, soprattutto perché mi sono resa conto che in questo periodo in cui ho sfornato più video del solito abbiamo avuto un sacco di occasioni per riflettere insieme su degli argomenti e ho trovato dei commenti bellissimi nella sezione dei commenti sotto i video che mi hanno fatto veramente pensare di avere la community più bella del mondo perché sono nate delle riflessioni e degli spunti soprattutto da parte vostra che ho amato tantissimo quindi ho pensato quale migliore occasione di questi ultimi giorni di maratona per buttare lì un altro sassolino per riflettere insieme su un argomento e l'argomento di cui volevo parlarvi è il momento giusto per i libri. Io mi sono ritrovata tante volte a dire frasi tipo quel libro è bello ma non era il suo momento per esempio ed è effettivamente una cosa che a volte dico anche senza pensarci più di tanto cosa significa non è il suo momento era un momento per esempio concitato e non ho potuto dedicargli attenzione mi sono però resa conto con una delle mie ultime letture che mai come nel caso di questo libro questo non era il suo momento mi è tornato prepotentemente alla mente e si tratta di Follia di Patrick McGrath questo è un libro che ho mostrato in lungo in largo su questi schermi nelle tbr insomma l'avete visto tante volte e finalmente quest'anno sono riuscita a leggerlo. La mia prima reazione quando l'ho iniziato è stato mannaggia non è il suo momento perché l'ho iniziato proprio a cavallo tra novembre e dicembre e io un po' come se avessi un orologio in testa ottobre novembre voglio le letture inquietanti ma da dicembre voglio libri cosparsi di zucchero quindi ho iniziato a pensare ma avrò fatto bene in realtà a cominciare a leggerlo adesso perché effettivamente sto entrando nella modalità natalizia magari non è il caso invece posto che è una lettura che secondo me è partita lenta ma poi mi ha inglobata ne parleremo comunque cioè questa non è una recensione di questo libro ne parleremo nel wrap up delle letture di dicembre ma lo spunto nasce da questo prima parte un pochino lenta poi mi ha inglobata me lo sono divorato mi sono resa conto che questo è il classico libro che alla me di 10 barra 15 anni fa avrebbe fatto letteralmente impazzire oddio che con un libro che si chiama follia mi sembra un gioco di parole un po un po insomma un po brutto scherzi a parte questo libro posto che mi è piaciuto l'ho trovato un bel libro ho trovato interessanti scusate abbiamo un momento un'interruzione tu e le tue bravate vero non l'avete mai visto questo delinquente nel periodo del mary lulamas vero allora scusate ritorniamo seri dicevamo sebbene io lo abbia trovato un bellissimo libro mi è piaciuto mi ha coinvolta mi piace la tematica la trovo interessante mi sono ritrovata per tutto il tempo in cui l'ho letto a pensare se io avessi letto questo libro una decina d'anni fa diciamo abbondante una dozzina d'anni fa io sarei impazzita per questo libro le atmosfere cupe ma non solo cupe tendenti al morboso l'aspetto della psichiatria il fatto che è narrato da un medico tutti questi fattori mi hanno fatto pensare che se io lo avessi letto prima sarebbe diventato tipo uno dei miei libri della vita invece in questa fase della vita l'ho apprezzato mi è piaciuto ma non è diventato uno dei miei libri quindi mi ha fatto un po' riflettere su che cosa significa quando diciamo che un libro non è non è non l'abbiamo letto nel cioè non era il suo momento giusto diciamo nel mio caso appunto se togliamo la questione magari è un periodo concitato e questo libro necessita di maggiore concentrazione oppure è un libro che credevo prendesse quella piega in realtà no si tratta veramente molto di fasi della vita e fasi della vita in cui determinate cose sono al centro della mia attenzione sono interessanti mi incuriosiscono e quant'altro un altro libro di cui io ricordo assolutamente di aver detto l'ho letto un po' fuori tempo massimo è stato mamma tandori libro che vi ho presentato credo ormai un po' di tempo fa su questo canale che era un libro che quando vivevo in olanda tutti quanti mi avevano consigliato di leggere tutti mi avevano detto che era un libro bellissimo che era divertentissimo che era perfetto per quel periodo e poi io per un motivo per l'altro perché non l'avevo trovato in italiano e poi me l'ero dimenticato e quant'altro l'ho letto talmente tanti anni dopo che tutte quelle cose che se lo avessi letto mentre vivevo in olanda mi sarebbero sembrate così vivide per me dopo tanti anni erano praticamente sbiadite nella lettura i ricordi della città di determinate determinati aspetti della cultura olandese dell'immigrazione in olanda insomma mi sono resa conto che era un libro che sarebbe stato perfetto nel momento in cui io vivevo lì perché ci avrei rivisto tantissime cose che mi circondavano e che letto così a distanza di anni era come se fosse un po' annacquato stessa cosa si dica per questo libro perché ho sicuramente avuto una fase della vita in cui determinati personaggi determinati argomenti mi catturavano molto di più mi interessavano molto di più e leggere un libro sapendo che il suo momento sarebbe stato dieci anni prima o quello che è secondo me mette proprio sotto la giusta luce questo aspetto quindi riuscire a identificare quali sono i motivi per cui ti viene da dire che non è il suo momento e appunto questa cosa mi ha fatto un po' riflettere perché mi sono mi sono anche posta un po' il problema di chissà quanti libri che io ho comprato sull'onda del momento e ho lasciato in attesa staranno lì ad aspettare il loro momento e magari il loro momento in realtà era quando li ho comprati ora non voglio ridurre tutto allo mio dio troppi libri cosa devo fare però un pochino questa riflessione sta andando di pari passo con la riflessione che mi ha fatto scaturire follia perché se è vero che in questo caso si tratta di un libro che io ho acquistato due o tre anni fa ma che assolutamente sarebbe appartenuto ad una fase diversa della mia vita quello che mi capita spesso con i libri che mi circondano è acquistarli nel momento che mi sembra adatto in cui mi interessano in cui ho il desiderio di leggerli e poi lasciarli lì ad aspettare mi sono effettivamente resa conto che anche se non è uno dei miei propositi per l'anno prossimo perché per l'appunto ho tanti libri da leggere e voglio acquistare meno quando sono riuscita a far passare poco tempo tra l'acquisto e la lettura di un libro ho trovato veramente una soddisfazione immensa non so se questa cosa sia una regola aurea però effettivamente sebbene mi renda conto che assolutamente ci sono libri che trovano il loro momento anche anni dopo l'acquisto per essere letti e per essere insomma la lettura giusta di quel periodo ci sono altri libri che effettivamente nel rimanere in attesa poi perdono un pochino il non so il sapore che forse potevano avere se venivano letti immediatamente quindi qua secondo me ci sono due riflessioni parallele che sto facendo la prima è il fatto che a volte è molto facile identificare quali sono gli elementi che ci fanno pensare che questo libro ci sarebbe piaciuto in un'altra fase della vita ma che magari in questo momento non era necessariamente la lettura perfetta però dall'altro lato c'è anche il fatto che spesso avere tanti tanti libri implica che da quando si acquista un libro a quando lo si legge passa magari anche molto molto tempo e forse parte di quella tra virgolette urgenza si perde per strada e magari non c'è nemmeno più così tanto chiaro il motivo per cui quel libro ci sembrava così importante in quel momento quindi sì sto un po' riflettendo e mi piacerebbe anche tantissimo avere il vostro parere a riguardo perché effettivamente l'idea che un libro non sia adatto ad un determinato momento mi ritorna spesso e magari non ho avuto necessariamente occasione di parlarne con altre persone e capire se per loro sia lo stesso o quali siano le motivazioni e insomma di parlare di questa cosa mi viene appunto spesso da dire forse non era il suo momento però non sono mai andata a pensare a quali siano le motivazioni quindi nel caso di follia che poi appunto vi recensirò nel wrap up delle letture di dicembre c'è proprio il fatto che è un libro che sembrava appartenere ad un altro periodo della mia vita la stessa cosa mi è capitata rileggendo Kundera che è un autore che io ho letto insomma tutti i libri che ho letto di quest'autore li ho letti tra la tarda adolescenza i primi vent'anni ed effettivamente mi ha fatto un effetto molto 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 diverso letto da adulta stessa cosa mi è capitata con Banana Yoshimoto io non dico che sia solo questione che un libro invecchia tra virgolette quindi per esempio nel caso di Banana Yoshimoto sono libri che sono fortemente connotati con gli anni 80 per esempio 80 90 però secondo me è proprio anche a quale fase della vita tendiamo a ricondurre un determinato libro un determinato autore che magari letto in un altro momento fa un effetto diversissimo oddio questo credo sia ancora un altro argomento però insomma mi piacerebbe tantissimo parlare con voi dopo aver lanciato questi spunti anche appunto per sentire il vostro parere su cosa significa leggere un libro nel momento sbagliato vi è mai capitato di leggere qualcosa come è capitato a me con follia di leggere qualcosa e pensare questo sarebbe stato perfetto per la me stessa di 12 anni fa oppure vi è mai capitato di non trovare soddisfazione con una lettura e poi rileggerla in tutt'altro momento e invece trovarla meravigliosa quindi mi piacerebbe tantissimo parlare di questo argomento come sempre lo spazio qui sotto è tutto vostro io sono in ritardo con le risposte ai commenti ma arrivo lo prometto io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi fatemi sapere qui sotto se vi va appunto il vostro parere le vostre riflessioni su questi temi io vi ringrazio tantissimo per tutti questi giorni insieme domani sarà il nostro ultimo giorno di mary lula ma se io sono già tristissima però non vedo l'ora di salutarvi prendermi una piccola pausa e poi ritornare con tanti nuovi contenuti vi ringrazio ancora tantissimo oggi è l'ultimo giorno che posso dirlo quindi io vi ringrazio per il vostro tempo i vostri commenti e noi se vi va ci vediamo domani ciao ciao